Edoardo Giorgetti, dieci volte campione italiano assoluto nella Rana, finalista europeo e mondiale a Roma nel 2009, è stato sesto ai campionati del mondo di Vasca Lunga, secondo ai giochi del Mediterraneo 2009, argento anche nei 200 Rana al Duel in the Pool, al duello in Vasca tra Stati Uniti e Europa, quindi una manifestazione importantissima, nello stesso anno in cui Pesce vinceva i campionati del mondo junior nei 50 Rana, Edoardo Giorgetti vinceva il titolo mondiale juniores nei 200 Rana, compagni di nazionale entrambi classe 89. Edoardo Giorgetti è il campione italiano in carica dei 200 Rana, ricordiamo lo strepitoso argento europeo nel 2008, con record europeo in quell'occasione per l'azzurro targato Agniene che chiude in 1-0-0 e 96, ad un passo dal tempo di Mattia Pesce che rimane il migliore. Io credo che sia un arrivederci alla finale di domani mattina, tra questi due atleti sarà sfida, ancora tremerà il primato della manifestazione.